Recupero della 26esima giornata nel campionato di eccellenza siciliana per il Girone A dalla Matranga, il Castellammare ospita la Nissa. Nell'ultimo turno vittoria per 4 a 3 dei padroni di casa contro la Dolce Onorio Marsala, Nissa che invece ha vinto di misura 2 a 1 nel recupero della 25esima giornata contro il Castel Termini. Vediamo le scelte delle rispettive formazioni, Castellammare con Di Paola, Milana, Adamo, Virgilio, Tarantino, Di Bartolo, Messina, Terranova, Cardinale, Pizzo e Matese. Risponde la Nissa con l'ivolsi Garofalo di Hop, Conti, Priola, Bisogno, Priolo, Caronia, Camarà, Rizzi e Pardo al primo tentativo però. Passa il Castellammare col corner dalla destra che trova Tarantino tutto solo, 1 a 0 e reazione della Nissa con il tentativo mancino di Rizzi che viene deviato in corner da Di Paola. Da quello che ne consegue Svetta Pardo che manda in bocca ancora al portiere avversario. Deja Vu della prima rete al 32esimo, sempre un corner, sempre dalla destra, stavolta è Pizzo che svetta tutto solo nell'area della Nissa e fa 2 a 0 al 47esimo. Calcio di punizione di Priolo controllato in due tempi da Di Paola che poi subisce anche fallo da Bardo. Dublice fisco alla Madranga, fin qui la Nissa rincorre per 2 a 0 grazie alle reti da parte del Castellammare. Le segnate a Tarantino e Pizzo, due gambi per la Nissa tra primo e secondo tempo, tocca a Reducci e braccia il 51esimo, gran mancino di Rizzi che sfiora l'incrocio dei pali. 64esimo sempre su calcio d'angolo, incredibile, passa il Castellammare, stavolta l'ultimo tocco è Di Adamo che batte Li Volzi che prima aveva smanacciato 3 a 0 dei padroni di casa. Al 70esimo tocca Pizzolato al posto di Rizzi, passano 3 minuti e c'è un calcio di punizione affidato al destro di Priolo, cerca addirittura un tentativo di conclusione che però viene smanacciato da Di Paola. 76esimo cross dalla sinistra, arriva il 4 a 0 del Castellammare, Pizzo anticipa Li Volzi e firma il gol del poker all'81esimo, Cipro alla Nissa, corner di Priolo sul secondo palo, Svetta Carofalo che però manda sul fondo. 82esimo tocca a Mazzoni per bisogno all'85esimo, Nuccio per Pardo all'88esimo, l'ultima chance della partita, calcio di punizione di Messina, il palone finisce in area dove c'è Maltese, ci prova al volo trovando la gran parada di Li Volzi. Termina così il recupero della 26esima giornata del campionato di eccellenza, frana la Nissa contro il Castellammare con risultato di 4 a 0, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.